Così piena di macchine non la si vedeva ormai da anni, ma da ieri sera a piazza del plebiscito e il salotto di Napoli è diventata raduno di oltre 400 auto bianche di tassisti che annunciano linea dura contro il progetto di liberalizzazione delle licenze promosso dal governo. Un'altra giornata difficile per la circolazione in città e dopo un pomeriggio di protesta che ieri ha provocato disagi per cittadini e turisti, in molti sono rimasti a piedi all'arrivo in aeroporto e in stazione, i tassisti partenopei hanno abbandonato gli stazionamenti e proseguito ad oltranza il presidio al plebiscito, per contestare misure che ritengono ingiustificate e penalizzanti per la categoria ma anche per i cittadini. A Napoli sono 2370 i taxi che circolano regolarmente, troppi secondo i rappresentanti di categoria che da anni lamentano di lavorare in condizioni difficili, con oltre 1000 licenze in più rispetto alla domanda. Lo sciopero nazionale indetto dai sindacati è previsto a Bologna per il prossimo 23 gennaio.